Sarà inaugurata domani 4 ottobre nelle sale Vesevi del Maschio Angioino la mostra Jakub Kolas e gli scrittori russi, dedicata a uno dei maggiori scrittori della Bielorussia, poeta civile e cantore della vita contadina, vincitore per due volte del premio di Stato dell'Unione Sovietica. Questa mostra rappresenta proprio questo legame tra Jakub Kolas e gli scrittori russi, tra i diversi paesi, la traduzione dell'arte di Jakub Kolas nelle diverse lingue, la sua capacità e il classicismo. Durante la mostra ci saranno lette le poesie di Jakub Kolas in russo, in bielorusso e in italiano anche. La delegazione bielorussa che ha curato l'iniziativa è stata ricevuta questa mattina nel Palazzo del Consiglio Comunale dal Presidente Alessandro Fucito e dal Vice Sindaco Raffaele Del Giudice. L'inaugurazione della mostra sarà preceduta da una conferenza sulla cultura della Bielorussia e il suo legame con la Russia. È un momento di dialogo culturale con le istituzioni bielorusse, il Consolato, il Ministero, il museo che detiene questa collezione e questa mostra, ma è anche un'occasione di interscambio, di fratellanza non solo tra due popoli, in vista anche di future collaborazioni, ma anche di rapporto con la comunità locale. Bielorussi e russofoni sono migliaia di persone e di cittadini napoletani a tutti gli effetti. Bielorussi e russofoni sono migliaia di persone e di cittadini napoletani a tutti gli effetti.